Pochi lo conoscono, se non i residenti della zona, ma questo non giustifica il suo stato di abbandono. Siamo a Pastina di Gualdo Tadino, piccola frazione collinare, e questo è ciò che rimane del civico cimitero ormai indisuso da 80 anni. La recinzione è crollata, la vegetazione ha invaso lapidi e croci, uniche memorie di vecchie sepolture. Era il 2008 quando l'allora amministrazione comunale aveva messo mano ad un progetto per il recupero di questo spazio della memoria, ma da allora nulla più è stato fatto. La buona volontà e l'attaccamento alla terra hanno spinto volontari come Franco Zeni a mettere di suo per risistemare il cancello d'ingresso, aiutato dall'amico Santecossa, ma è ovvio che da soli l'impresa è titanica. Io l'impegno che ho preso col sindaco nel mese di maggio così, che ristrutturavo il cancello, se rifaceva la recinzione e possibilmente fare una bonifica. In che si tratta? In una bonifica che si tratta? Scavare, tirare fuori quello che c'è sotto, giusto? Ristabilire il terreno e faccio come un prato. Io sono sempre per i morti, ho fatto le lapidi della prima guerra mondiale, la seconda e dalle caduti sotto i bombardamenti. E c'era rimasto questo, se era possibile, da una mano per riattivare, no, a riattivare per risistemare. In questo cimitero c'ho lo zio, mi ricordo benissimo, un fratello di mia madre, morto a nove anni e io e mia madre, io abito a Grello, sto a due chilometri, venivamo tutte le domeniche a piedi e mi ricordo che la buca centrale della chiesa che abbiamo alle spalle, sotto è piena di cadaveri, non so se l'hanno levato, e lì sotto c'è il fratello di mia madre. La mia grossa aspirazione sarebbe addirittura, non come la pensa Franco, di poterlo riaprire e io sarei prontissimo a spostare i miei cari dal cimitero di San Facondino a qui, anche perché stiamo a 100 metri, voglio dire. Giardino o nuovo cimitero è una decisione che i residenti della zona riviano al comune a cui chiedono di intervenire. Questo perché il luogo ospita ancora i resti di defunti ed è un posto della memoria e degli affetti che comunque va conservato, seppur non più utilizzato. E invece è purtroppo in mano allo schiaventurato, i cacciatori notturni, come anche alla fauna selvatica che qui scava, introducendosi anche nel vecchio ossario della chiesa. Circa 20 anni fa, sai, i cacciatori girano, c'hanno i cani. A un certo punto è uscito un cane da questo spazio e portava un osso su un bocca. Sono rimasto male, talmente male che non sono più venuto su queste zone a cacciare. Nei giorni che precedono le ricorrenze dei Santi e dei Morti, il piccolo cimitero abbandonato di Pastina, ricorda a tutti che ogni popolo del passato si è confrontato con la morte, destinando risorse e sforzi al perpetrarsi della memoria. La storia ha tenuto in degno conto anche questo aspetto nel misurare il grado di civiltà di una popolazione.